Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti è intervenuto alla presentazione del progetto HelpKeyTV, modelli di comunicazione innovativi per il cittadino, presso la sala del casello di guardia di Porcia. Il progetto, promosso dalla regione, dai comuni dell'ambito urbano 6.5, di cui Pordenone è l'ente capofila, dall'AS-6 e dal polo tecnologico di Pordenone, si propone di favorire la comunicazione delle persone anziane e dei disabili attraverso l'uso delle tecnologie. HelpKeyTV consente anche a chi non possiede un computer di accedere facilmente al mondo di internet e ai servizi che esso offre, attraverso la televisione. HelpKeyTV è un progetto di innovazione in sanità, dove l'innovazione non è rappresentata da tecnologie sofisticate, ma semplicemente da un uso diverso del televisore. Ha approfittato del passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, la soluzione che è stata inserita sul decoder è quella di mettere una chiavetta, ovviamente adattata, per permettere alla persona, l'anziano, la persona fragile, tutte quelle che possono avere necessità di comunicare, di interagire con il televisore su internet. Questi anziani possono, attraverso il televisore, attraverso la piattaforma che è stata inserita, anche mandare dei messaggi o ricevere dei messaggi dai propri parenti. È un esperimento, questo chiamato HelpKey, a cui teniamo proprio per avere poi un riscontro se questi modelli che ci consentono di essere più vicini alla gente, ma usando la tecnologia in modo intelligente, sia qualcosa che nel tempo possa essere riutilizzato. Vogliamo però avere il riscontro e la verifica con le persone che hanno utilizzato queste cose per capire alla fine la reale portata di quello che abbiamo fatto. Grazie.